Da uomo a uomo è il titolo perché sono gli uomini che parlano agli altri uomini mettendoci la loro faccia di violenza di genere e di pari opportunità. 45 volti maschili rappresentativi del territorio comunale, uomini che parlano agli altri uomini perché le donne si ritrovano fin troppo spesso ad affrontare solo tra loro il tema della violenza domestica senza riuscire a intercettare chi quella violenza la mette in pratica. A San Biagio di Callalta il comune, su idea dell'assessore Cancian, ha deciso di creare dei totem su cui compariranno testimonial d'eccezione, sindaco Cappelletto compreso. Abbiamo coinvolto presidenti di associazioni culturali, sportive, ricreative, i nostri parroci che ringrazio, l'ex dirigente scolastico Francesco Codello, commercianti, baristi, barbieri, ma anche semplicemente tutti quegli uomini che si sono messi a disposizione e al servizio della comunità proprio per diffondere questo messaggio. C'è ancora un forte maschilismo, molto forte, che prima o poi le donne riusciranno a combattere, dai. Non solo le donne in questo caso? No, no, assolutissimamente, con il nostro aiuto speriamo di aiutare. L'opportunità che abbiamo noi uomini, devono averle anche le donne e non ci deve essere assolutamente nessuna differenza. I totem saranno esposti per la prima volta a inizio agosto alla Sagra di Rovare. I totem verranno posizionati all'interno di manifestazioni e di eventi che hanno un riscontro nel territorio e quando non saranno posizionati in queste manifestazioni li posizioneremo all'interno delle nostre scuole.